ciao a tutti ben ritrovati sul canale digital music oggi inauguriamo una nuova playlist la playlist guitar test ma innanzitutto mi presento è anche la prima volta che mi vedete in faccia mi chiamo salvatore liuzzo sono chitarrista e fonico e collaboro con la web radio tv sportiva di milano oggi parliamo di un marchio di chitarre veramente veramente da rapporto qualità prezzo altissimo voglio presentarvi l'harley benton r457 è una chitarra a sette corde veramente ideale per chi vuole passarsi uno spizio di avere una sette corde ecco io l'ho presa veramente veramente per spizio detto non non ne possiedo neanche una non voglio investire tantissimi soldi perché come vedete alle mie spalle forse ne ho spesi abbastanza però anzi in realtà non è mai abbastanza per quanto si riguarda strumenti chitarre a parte gli scherzi questa chitarra secondo me ha un rapporto qualità prezzo veramente altissimo e dopo successivamente ve la farò ascoltare comunque voglio anche descriverla un attimo corpondiglio tastiera 24 tasti abbiamo un maricon acero una tastiera fatta da pino di monterei tasti jumbo e poi la parte dell'elettronica abbiamo due handbucker high gain passivi e in più un bel ponte fisso selettore a tre vie volume e tono il peso secondo me è che era molto bel lanciata e non pesa pesa poco e niente e in più la tastiera è veramente veramente comoda questa è stata settata da un diutaio della mia zona e monta una 09 54 come come scala di corde e veramente a me mi sta dando molte soddisfazioni comunque ve la faccio ascoltare so Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.